Noi ci avviciniamo soprattutto per l'amore che proviamo per i cavalli e per l'animale che è. Nelle competizioni il rapporto cavallo-cavaliere è fondamentale perché più c'è sintonia, più c'è un rapporto tra virgolette di collaborazione, amicizia eccetera e più il risultato comunque migliora. Il consiglio che posso dare è che è uno sport diverso dagli altri. Sì, appunto c'è il rapporto con l'animale che è quello che ci fa cominciare e che poi non ce lo fa lasciare. Quindi io consiglio a tutti di provare perché direi che ti dà poi a livello di vita un insegnamento diverso.